Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici. Questa è la più bella come odore di te. Tu parti subito così. Volevo solo far capire che questa è la mia preferita come odore. Allora quello che ti avrei chiesto è proprio questo. Andiamo a vedere. Che buono! Allora siamo là. Quando apri le bustine di te e ti arriva quell'odore. L'abbiamo persa. Quarta serie delle gorgeous di Santoro e terzo episodio che facciamo noi. Apriamo due bustine che ho. Cioè allora questa è la checklist. Non sono per niente uguali alla checklist. Esatto. Ma la checklist più bella è questa. Aspetta che abbassiamo questa. E cosa speriamo di trovare? Dove vai tu? Allora. Questa. Questa. Questa col bonsai. Questa è carina anche. E questa mi piace. E aspetta. Dove vai? La classifica di queste. Forza. Vogliamo sapere la tua consiglia. Dalla prima all'ultima. Come aspetto. A parte aver distrutto la telecamera. Va bene. Quindi al primo posto qual è? Così. Partendo da qua? Sì. Non sono assolutamente d'accordo. Come cosa? Adesso ti dico comodore. Come aspetto io farei l'esatto opposto. E sta sniffando le gorgeous. le santora. Così. Va bene. Ok. No ma io voglio la classifica d'aspetto. Rimetti d'aspetto. Come qual era? Se invertiamo queste due. Come odore se invertiamo le altre. Io invertirei queste due partendo da qua. Prima, seconda, terza e quarta. Però il mio giudizio non conta nulla. Cosa abbiamo trovato? Allora non è facile trovare doppie. Sì. Ok. Bene. Sono contento. Perché non possiamo saperlo. E diventerà sempre più complicato. Lo sapete? Ma anche un buon odore. Sta di plastica. Bene. Mi sembra una buona giusta osservazione questa. Ringraziamo chi ci ha scritto. Chiamai sul like. Allora guardate questa checklist e adesso apro la bambolina. E soprattutto iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella per essere aggiornati sui prossimi video. Mi sono spoilerato chi è ma non ve lo dico. Andiamo a vedere? Sapevo. Mi devresti dire anche il nome. Cerca il nome. Wow wow wow. Tanta tanta tanta. Bellissimo. Veramente bella. Guarda il piccolo bonsai che avvicino. Io la volevo proprio per il bonsai. Sono veramente fatte bene. Le hanno migliorate. I love every bit of you. Non c'è il nome. Ah no come non c'è il nome. Eh sì. Si chiama così. Va bene. Aspetta che provo a vedere se c'è sulla checklist qui. Io ho più l'altra. Certo. Apri l'altra. Poi faremo la classifica. No sulla checklist. Ah sì c'è 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 c'è. Si chiama I love every bit of you. Si chiama così. Va bene. Perfetto. Aspetta dove la inserisci? È doppia. Però vediamo se la differenza di odore c'è. Se c'è la differenza di odore. Allora. Per ora no. Purtroppo abbiamo trovato una doppia. Ai 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 ai. Però voglio vedere se l'odore cambia. Ed è presto eh perché sono in totale. Fa sentire. 12 appena. Questo profuma di più forse. 12. Bene. Andavamo a metà. Quasi. Beh. Così faccio così. E allora visto che abbiamo. Guarda. Le ha messe una nella naricione e l'altra. Allora. Riposizioniamole. Questa doppia. Quale tieni? Questa? Allora. No. Via la doppia. Com'è la classifica? Così. La classifica. La nuova. Aspetta che le mettiamo un po' più avanti. La nuova classifica è questa. E su questa nuova classifica. Noi. Eh. Noi. Cosa? Noi. Ha cambiato. Ha cambiato. Ha cambiato idea. Ha messo l'altra. E quindi. Guardiamole bene. Questa è bellissima perché. Cioè. C'è. C'è un bonsai. Questa. È grande come una rosa. Cioè. Cioè. La rosa in questo caso è piccola. Però dovrebbe essere. Eh. Più o meno. Ti stai incartando. Io ti consiglio di salutare dall'appuntamento prossimo video. Allora. Elabora il pensiero e poi lo dico. È grande. Più piccola di un fiore. Praticamente. Perfetto. Questa è una fatina. Vabbè. Su un tronco. Questa. C'è un foglio con lei. Tipo poster. E questa non la conosco. Perfetto. Questa è la più bella. Sì. Per il momento concordo. A me piace molto anche queste due. A me piace questa per il vestitino e la rosa. Vabbè. Questa per il bonsai poi è carina. Qui. Questi due pomponi. Ma rivediamole velocemente prima di chiudere. Prima questa. Devo sbloccare. Ho messo in blocco la telecamera. Ecco. Questa qui. Poi rivediamo quella. Quella l'abbiamo già vista. È quella di oggi quella. Rivediamo quelle passate. Ah. Oh però. Questa è molto particolare. Io la vedo per la prima volta la vicino. Sì. Perché non l'ho vista ancora bene da vicino. Questa è stramissima. Sembra un quadro. È bellissima questa. È molto bella. È vero. Quindi. Non mi piace molto. Quindi. Chiudiamo qui. Anche perché a breve ne faremo un altro. E quindi. Come sempre. Di video. Non di Gorgeous. Non un'altra. Cosa? Video. Non un'altra. No. Un altro video. Video. Certo. Va bene. Noi vi trattiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao.